Sotto quel telo nero, te lo dico, c'è uno specchio. Quindi, dopo tutti questi giorni, potrai vederti con un nuovo corpo, ma soprattutto un nuovo taglio di capelli. Quindi per te, doppio shock. Sei pronto? Sei curioso? Sei pronto a doppio shock? Eh, direi di sì. Ma te l'hanno un po' sistemati, capito? Metti le mani lì, non vedi? Eh, beh, ma lo faccio dopo, lo faccio dopo con calma. Ma Alvin, te l'hai sistemati tu i capelli, Alvin? Non se riconosce. Chi è? Presentati. Che dici? Controllo muscoli com'è? Ma pensa a Gianmaria che poteva fare allo specchio. Ci siamo aperti, vai. Ma non possiamo richiamare Gianmaria a fare solo specchio? Tanto era sull'altra isola. Ma si possono sapere i chili persi? Si possono sapere i chili persi? Poi potrai sapere anche i chili persi, ma come ti vedi rispetto a quello che avevi nella tua testa? Allora, se posso dire, pensavo molto peggio. Il mio domno. Il mio domno. E gu những מח Понfino. Lo che ho fatto.